In questa scuola qua dietro, il sabato pomeriggio, vengono svolti corsi di corano, camuffati per corsi di lingua araba, con soldi dei trentini all'interno delle strutture pubbliche trentine, utilizzando il personale scolastico che dovrebbe essere utilizzato per altre funzionalità. Qui si insegna il corano con i soldi dei trentini. Macca!